Buongiorno nella redazione di Flores Multimedia, in studio Cesare Martignan. Si segnala in A1 la presenza di un mezzo fermo in carreggiata tra Incisa Reggello e Valdarno in direzione Roma. Prudenza per la presenza di un veicolo fermo in carreggiata tra Firenze Sud e Firenze Impruneta in direzione Bologna. In FIPD per lavori tra Ginestra Fiorentina e la Stassigna nell'arco della giornata possibili rallentamenti con tendenza all'aumento in entrambe le direzioni. A Firenze fino al 15 settembre in Viale Don Minzoni restringimenti di carreggiata e di vieti di transito. Si ricorda che per lavori di pulo e acqua dal 9 agosto i viali di circombarazione tra la Fortezza da Basso e Viale Matteotti saranno interessati da provvedimenti alla circolazione. Si ricorda inoltre che prosegue la messa in sicurezza del viadotto Marco Polo a partire dal lunedì 9 agosto. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Altre informazioni sui nostri canali social. Buon viaggio!